L'ospite d'onore, Rasputin. Cerco qualcuno che mi procuri un'udienza con lo Tsar. Forse lei può essermi d'aiuto. Prendo decisioni solo quando mio stomaco è pieno o mie palle fuote. Beh, grazie a Dio la cena sta per essere servita. Da piccole cose nascono. Problemi enormi. Noi siamo la prima agenzia di intelligence indipendente. Mentre i governi attendono direttive, noi entriamo in azione. Benvenuto nel club. Ti servirà un abito. Davvero notevole. È tempo di danzare. Smetti di fare la femminuccia! Al diavolo l'estronzato da gentleman. Sarà un godimento ucciderti. Vedremo. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.